I primi effetti del conflitto tra Ucraina e Russia arrivano anche in Puglia. In queste ore a tenere banco è la situazione che gira attorno al tema del grano. Le due nazioni impegnate nella guerra sono prime al mondo per la produzione del grano tenero, ovvero quello utilizzato per la produzione di farina, biscotti e più in generale dolciumi. A spiegare cosa sta accadendo è Vincenzo Divella, amministratore unico della Divella S.P.A., marchio tutto pugliese che ha fatto la storia nel settore della pasta, ma non solo. Divella, intervenuto a Spazio Città in una intervista con Roberto Straniero, ha fatto il punto della situazione. Dalla Russia e dall'Ucraina, che è l'area dove si produce più grano tenero nel mondo, è chiaro che venendo meno quell'area, le altre aree, la Francia, l'Australia, il Canada, il prezzo del grano aumenta. Già ieri, nelle grandi borse di Parigi e di Chicago, il grano quotava 3-4 euro in più a quintale. Questo è un effetto subito, immediato, purtroppo, di aumento della materia prima, che potrebbe avere, non subito, ma nel tempo, ripercussioni nella farina, e quindi farina per pane, per produrre pane, per produrre pasticceria. Secondo Vincenzo Divella, al momento non c'è il rischio di una ripercussione nei confronti dei consumatori, ma i costi per le imprese, quelle sì, rappresentano una criticità inevitabile, perché costrette ad acquistare altrove. Purtroppo, quando succedono queste cose, gli effetti collaterali sono incrementi di prezzo, ma non mancanza di prodotto, perché ogni azienda che si rispetta, e noi ci riteniamo tale, scorte ne ha, quindi non aumenta immediatamente il prezzo della farina, ma purtroppo, nel tempo, se dovesse continuare una guerra, i prezzi del pane, dei dolci e di tutto quello che riguarda il grano tenero e quindi farina, dovrebbero aumentare, lievitare. L'amministratore unico di Divella S.p.a. è sicuro, sugli scaffali dei negozi, i prodotti non mancheranno, anche il rischio di chiusure da parte delle imprese sembrano esserci. Le chiusure possono avvenire per altre motivazioni, per l'aumento dell'energia elettrica, per l'aumento del gas, dei cartoni, del cellophane, dei nolli marittimi. Ne stavamo uscendo, ne stiamo uscendo dal Covid, adesso è arrivato altri problemi grossissimi. Per il grano dobbiamo solo stare calmi, la roba scaffale non mancherà, e ripeto, stiamo parlando solo di farine, quindi dolci, pane, eccetera, eccetera, perché ognuno di noi un po' di scorte le ha e quindi metteremo al servizio del consumatore, come sempre, la nostra abilità nell'aver comprato a prezzi buoni. Intanto la Divella guarda con interesse in altre parti del mondo per sopperire ai mancati carichi da Russia e Ucraina. Noi, per esempio, già da ieri stiamo trattando del grano che viene dal Canada, ai confini del Messico. È un grano molto proteico, tenero, per fare dolci che aumentano di volume come il babà e quello costa 5 euro a quintali in più di quello russo che avevamo comprato ma che purtroppo non possiamo caricare.